Ciao a tutti ragazzi, prima di iniziare questo video con l'analisi e tutto quello che riguarda il cambio tattico di Tiago Motta in Genoa e Juventus a fine primo tempo, voglio lasciarvi un estratto 3 minuti di estratto della live che abbiamo fatto proprio in occasione della partita nell'intervallo quando andavamo a parlare di potenziali soluzioni per cercare di scardinare il Genoa ascoltatela bene perché è molto interessante, va a toccare diversi punti che andremo ad analizzare in questo video e che hanno permesso alla Juve di vincere agilmente a Marassi, ecco la clip i terzini, male, molto male, questa deve essere la disposizione in campo, se vuoi stringere Danilo e allargare Rui e tanto Rui Rui ci va in realtà in questa posizione, ci va a largo, il problema è che Ildis rimane comunque largo Cobb Mainers non sta particolarmente centrale e noi siamo più una roba di questo tipo qua una roba di questo tipo e non stiamo occupando bene gli spazi cerchiamo di capire come possiamo saltarci fuori allora in questo modo perché se tu vuoi sempre staccare uno dalla linea, come sembra voler fare davvero Tiago Motta e allora la disposizione deve essere quella che vi ho illustrato prima cioè deve essere questa, dobbiamo occupare gli spazi in questo modo se vuoi staccare uno dalla linea se tu non vuoi staccare uno dalla linea allora prenditi il 4-2-3-1 perlomeno cioè lo può fare sì o no Ildis sul ruolo cioè Cobb Mainers, io ve lo ripeto, io sarò ragazzi, sono ripetitivo però per me Ildis e Cobb Mainers devono essere qui va troppo in giro per il campo Cobb Mainers, per essere decisivo di essere negli ultimi metri arrivo a questo punto, hai sia Bangula che con Seisau puoi armarti di queste cose cioè se non siamo ancora pronti per fare questo tipo di gioco perché non ci lasciano spazi perché siamo a questo punto, è la quarta partita consecutiva in Serie A in cui loro si mettono dietro e noi siamo incapaci di togliere questo fortino non stiamo sfruttando, cioè non stiamo sfruttando l'ampiezza ragazzi, Juve-Como ha funzionato benissimo perché la Juve cambiava lato la Juve, bam bam, andava a prendersi gli esterni addirittura voglio sfruttare gli esterni veramente cazzo, vado ad attaccare la loro linea 5 raddoppiando sugli esterni con Seisau e Cambiaso, Oniko e Cambiaso e Bangula e Cabal cioè se il problema è quello lì, cazzo se vengo ad attaccarti sugli esterni porca vacca se vengo ad attaccarti sugli esterni voglio proprio farti male sugli esterni, cioè voglio proprio distruggerti sugli esterni non è un problema, vengo, cioè addirittura potrebbe esserci la salita la volpiana cioè ce ne sono un botto di opzioni ma se il problema è che loro si metta lì e tu non li riesci a scardinare oh, devi cambiare spartito perché questa è la terza partita e mezzo in cui dall'altra parte c'è una squadra che si chiude e tu giri la palla, giri la palla, giri la palla hai avuto il 67% di possesso palla segna bravo cioè oggi la Juve trova una squadra che si chiude la Juve non gioca calcio la Juve trova degli spazi la Juve è aggressiva e non può essere così io sono un grande amante dell'equilibrio sono un grande amante del clean sheet di non prendere gol grandissimo amante però io voglio fare gol non esiste chi non faccia gol o che mi vada a buttare sul fatto che magari con una giocatina no, bisogna fare gol noi, in quanto tifosi, siamo abituati ad avere una concezione quella di cambiare i giocatori sostituire i giocatori non sta giocando bene il giocatore X non sta girando la squadra non si sta riuscendo a scardinare cambiamo i giocatori abbiamo questa cosa che è proprio dentro di noi intrinseca ma a volte non serve nemmeno questo e Tiago Motta ce l'ha dimostrato l'altro giorno a volte non è un discorso di giocatori perché un primo tempo prodotto come quello della Juve in cui si salvavano praticamente soltanto Bremer e Calou insieme a McKennie e forse a Nico e l'avvio di ripresa anche se in realtà qui c'era Perin ma poco cambia e l'avvio di ripresa dei bianconeri con quel rigore procurato dopo 90 secondi ma sicuramente con un atteggiamento differente sono la chiave per descrivere quello che stiamo dicendo adesso cosa è successo? che la Juventus con questo giropalla non andava a occupare bene il campo con il 4-3-3 e quindi ci sono state tre mosse di Tiago Motta perché prima Fagioli era molto abbandonato a se stesso era molto staccato era qui e faceva fatica a farci ricorrere il pallone e allora cos'è successo? intanto questa inversione con Calou che va a fare il terzino e Danilo che va a fare il centrale dove sicuramente è molto più a suo agio in questo momento di carriera perché ha perso secondo me tanto di quello spunto e un conto è fare il terzino bloccato che viene solo dentro il campo un conto è quando devi andare invece a prendere questa zona e Danilo questo non lo poteva fare Rui invece sì lo faceva già e se Fagioli era da solo è bastato semplicemente abbassare McKennie al suo fianco di fianco a lui per avere un giocatore in più per gestire il palleggio questa cosa ha liberato Spass per Cobbmaners che è potuto andare per vie centrali è diventato un trequartista ma soprattutto si è avvicinato a Vlaovic e alla porta Ildis e Nico sono un mancino che gioca a destra come Nico e un destro che gioca a sinistra come Ildis quindi tendono ad entrare dentro il campo tendono a svuotare le corsie questo Spass non lo va a prendere nessuno ed è qui che abbiamo Rui e Calou più Rui ovviamente per caratteristiche rispetto a Calulu ma anche Calulu ha fatto questa cosa tant'è che il gol della Juve nasce proprio per questo se prima questa zona era meno presidiata dai giocatori della Juve dopo 90 secondi Nico si accentra crossa per Rui che è di qua che passa Ildis e c'è il fallo di mano di De Winter e rigore per la Juve ma nasce dal fatto che la Juve è andata a occupare meglio gli spazi è andata veramente a distendersi in questo modo quando sviluppava il pallone ed ecco che ora tutti i giocatori possono andare a prendere tutte le zone di campo che invece prima non era possibile raggiungere perché qui la palla non ci arrivava mai poi Calulu per caratteristiche non è un giocatore in grado di farti tutta la fascia così cioè non è Savona non è Rui non è se vogliamo Cabal Cambiaso non è quel tipo di giocatore quindi per forza di cose Calulu doveva un po' limitarsi perché poi non è un calciatore che sa anche tornare qua è molto più centrale da questo punto di vista Calulu lo vedo un po' come un Danilo quando stava bene che comunque lo può fare può andarci però si trova più a suo agio in una fase difensiva piuttosto che offensiva anche se Calulu secondo me personalmente mi sta piacendo tantissimo in questo inizio di stagione però questi sono stati i cambi di Tiago Motta e non sono stati i cambi legati ai calciatori sono stati soltanto i cambi legati a quello che voleva fare la squadra in campo importantissima questa cosa qui questi tre giocatori anzi questi quattro giocatori importantissima perché Comainers deve essere vicino Vlauic perché Nico e Ildis tendono a stringersi e quindi qua addirittura ripetiamo Calulu non se la va a prendere sempre però ogni tanto ci han dato lo stesso ma Ildis per caratteristiche che tende sempre a stringere Nico comunque l'ampiezza la cerca già di più perché è più ala rispetto a Ildis ma Ildis ha bisogno di un terzino che vada a prendere questo spazio che possa essere Cambiaso che possa essere Cabal che possa essere Rui quello non importa ma quando Ildis stringe perché deve venire a giocare in questa posizione qui per rendersi pericoloso come in occasione del gol col PSV qui ha bisogno di un giocatore che gli vada in sovrapposizione è un po' quello che accadeva l'anno scorso con Chiesa e Cambiaso ma al contrario perché l'anno scorso dicevamo che Chiesa doveva prendersi l'ampiezza e quindi doveva stringere Cambiaso in questo caso deve stringere Ildis e serve l'ampiezza di un terzino sinistro che vada veramente anche a calpestare queste mattonelle che solitamente invece Ildis non va a pestare perché perché non è un'ala non è un esterno puro un giocatore che può interpretare quel ruolo a modo suo nel 4-2-3-1 per me può fare benissimo l'esterno di sinistra ma ha bisogno davvero che ci sia una sorta di cavallo che possa farsi tutta la fascia uno Stefan Lichsteiner della corsia di sinistra per far rendere al meglio Ildis queste secondo me sono state delle letture buonissime da parte di Tiago Motta che è riuscito a ribaltare la situazione è riuscito a creare l'occasione del calcio di rigore perché per quanto sia vero che la Juve l'ha sbloccata sul calcio di rigore sì per il calcio di rigore la Juve è andata a cercarselo a procurarselo proprio grazie a queste innovazioni tattiche che non avevamo ancora visto mi ha ricordato molto la partita tra Juve e Como questa cosa perché abbiamo fatto tutta la pre-season in cui il 4-2-3-1 lo vedevamo soltanto sulla grafica di inizio gara invece Juve e Como ci siamo avvicinati a quella disposizione con Locatelli e Turam nei due di centrocampo con Locatelli che poi andava a volte ad alzarsi ma nel secondo tempo con l'uscita di UEA e l'ingresso di Savona è stato evidente che la Juventus volesse giocare 4-2-4 praticamente e si sono visti i risultati e tutte le volte che la Juve si mette in questa disposizione in cui spinge con gli esterni e stringe con quelli che dovrebbero essere le ali avanzate ecco che la Juve riesce a trovare più spazi e secondo me diventa molto più convincente sono curioso di sapere la vostra opinione che è stata nei commenti grazie a tutti